Il Domeni è uno dei cento palazzi storici della nostra città ed è sicuramente uno dei più importanti per diverse ragioni. Innanzitutto per le dimensioni si tratta di oltre 60 stanze che sorgono proprio al confine tra i due quartieri di Sacca e di Civitanova. Di queste 60 stanze gran parte erano adibiti ad usi di rappresentanza, quindi hanno conservato delle pitture nelle volte, mentre purtroppo un intervento che è stato realizzato all'inizio degli anni 90 ha eliminato le antiche carte da parati e gli antichi pavimenti. Ci sono ovviamente conservate le cucine, ci sono le scuderie, ci sono i magazzini perché i napolitani erano una grande famiglia di mercanti originari pari di Norcia che costruirono questo palazzo proprio alla metà del 1700, inglobando anche degli edifici gentilizzi più antichi. Una famiglia che ha continuato a vivere in queste sale fino praticamente agli anni 70, quindi per mezzo del Novecento, permettendo quindi la loro perfetta conservazione. Purtroppo c'è stato questo intervento al quale bisognerà in qualche modo rimediare e studiare una nuova funzione per questi locali che sicuramente rappresentano una parte importante della storia della nostra città e possono esserne anche una vetrina. Il palazzo è chiamato Napolitani Berenga perché l'ultima esponente della famiglia Napolitani sposò Gerardo Berenga, il sindaco di Lanciano all'inizio del Novecento, poi parlamentare, morto nel 1945. Nel 1943, durante i bombardamenti, il palazzo Berenga, anche quello storico, che si trovava in Corso Roma, venne colpito dai bombardamenti. Quindi la famiglia si trasferì in quest'altra residenza che possedeva in linea materna e, essendosi poi Napolitani estinti con la sua ultima rappresentante, il comune di Lanciano comprò questo palazzo appunto dagli eredi Berenga, da cui appunto il nome è Napolitani Berenga. L'archivio Napolitani Berenga è conservato nella sede dell'archivio di Stato di Lanciano che attualmente si trova nell'area fiera.